buongiorno cari amici di mister marley oggi ci troviamo a tricaseporto riportiamo al ristorante a casa mia per iniziare il simpatico cameriere ci ha consigliato un antipasto di mare caldo con crostini per primo strozza preti ai frutti di mare accompagnati da un ottimo vino bianco frizzante ovviamente non poteva mancare una bella prittura di calamari per finire caffè in ghiaccio se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate un like alla prossima avventura con mister marley ciao 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 ciao